Paolo Toccafondi torna a essere presidente e amministratore delegato del Prato Calcio, cariche dalle quali si era dimesso dopo essere stato inibito in seguito al coinvolgimento nell'inchiesta della Procura di Prato sullo scandalo dei baby calciatori fatti venire dalla Costa d'Avorio e poi tesserati, oltre che su presunte combine in relazione ad alcune partite dell'ultimo campionato. La guida del Prato in questi mesi era passata alla sorella Donatella Toccafondi. È la stessa società biancazzurra a dare la notizia che arriva alla vigilia dell'udienza fissata per domani davanti al Tribunale del Riesame. In data odierna, viene spiegato dal Prato, la Procura ha disposto la revoca del provvedimento interdittivo a Paolo Toccafondi, che alla luce di ciò viene ripristinato nelle cariche. La richiesta di revoca era stata presentata dalla Procura al giudice per le indagini preliminari lo scorso 8 settembre, essendo venute meno le esigenze cautelari che avevano reso necessaria la misura. Toccafondi, che è difeso dall'avvocato Enrico Guarducci, era stato inibito per quattro mesi a ricoprire carichi ufficiali nel Prato.